Ciao, io mi chiamo Francesco Alberici, ho 34 anni, lavoro come attore da 10 anni in teatro, nel 2021 ho vinto il premio Ubu come miglior attore Andre 35, e sto iniziando a lavorare nel cinema ultimamente e mi piace moltissimo. Mi sono laureato in economia politica, perché il mio sogno non era veramente fare l'attore, però sono capitato a farlo ed è molto divertente. Grazie, ciao.